TG Tech, TG Tech, l'informazione dal mondo dei videogiochi e della tecnologia, in collaborazione con ItaliaTopGames.it Ciao amici di Simpli Radio e bentornati al TG Tech. Ogni giovedì alle 17, grazie alla collaborazione di ItaliaTopGames.it, ecco a voi le tre notizie più calde della settimana dal mondo dei videogiochi e della tecnologia, e alla fine un super contest che vi fa vincere fantastici premi. Questa settimana si vince Secret of Mana per PlayStation 4. Parti per un'avventura piena d'azione con la nuova versione rimasterizzata in 3D di questo gioco di ruolo. Mettiti nei panni di Randy, un giovane che ha il compito di recuperare il magico Mana Power. Per scoprire in anticipo la domanda che faremo fra poco, correte sulla home page di ItaliaTopGames.it e poi veloce a rispondere correttamente al momento giusto. Ma ora iniziamo con la posizione numero 3 del TG Tech. In terza posizione c'è la possibilità di giocare gratuitamente i primi due capitoli di Hitman. L'episodio 2, Sapienza, ambientato in Italia, è disponibile proprio da ieri sui digital store di PlayStation 4, Xbox One e PC. Tutti i dettagli li potete leggere su videogiocaregratis.it. In seconda posizione c'è God of War. Sony ha finalmente svelato due nuovi trailer dedicati al sistema di combattimento e a del gameplay più in generale. Da vedere subito su italiatopgames.it in attesa dell'uscita in esclusiva del videogame su PlayStation 4 dal prossimo 20 aprile. Ed in prima posizione infine c'è Pre-Evolution Soccer 2018. Da oggi infatti si possono prendere le amatissime leggende dal popolo bianconero e non soltanto Alex Del Piero e Pavel Nedved nella modalità My Club. In attesa di novità su PES 2019 in tanti non desideravano niente di meglio. Da Fabrizio Tropiano di italiatopgames.it per oggi è tutto.